Dieci anni di gestione di Aspes che ha di fatto raddoppiato il numero dei soci, dei comuni che si sono associati, siamo passati da 9 a 18, un raddoppio del fatturato, un raddoppio dei servizi gestiti. Quindi un ringraziamento va per questa mia nomina al sindaco di peso Andrea Biancani che avendo la maggioranza assoluta della società con l'84% proprio per statuto indica il nome del presidente di un altro membro del Consiglio di Amministrazione. Al tempo stesso va anche a tutti gli altri sindaci, tutte le altre amministrazioni che hanno scelto di affidare in forma diretta la gestione dei servizi ad Aspes. Ricordiamo che i servizi che gestiamo sono tanti, vanno dal verde urbano passando per la gestione dei tributi e della riscossione coattiva, per la vitrifrigo arena e molto probabilmente, anzi già in questo momento stiamo gestendo anche l'auditorium scavolini, per i servizi cimiteriali, poi abbiamo società, siamo di fatto in una holding, abbiamo le quote di maggioranza della Pesaro Parcheggi, siamo soci al 50% con Aset e gestiamo l'impianto di cremazione. Quindi i servizi sono tanti e il ringraziamento va a quei comuni che come mi piace ricordare non sono tutti dello stesso colore, anzi i comuni che si sono associati nel tempo e che ci hanno fidato servizi sono comuni di colore diverso rispetto alla matrice che mi indica, cioè quindi al centro sinistra del comune di Pesaro e questo ci fa piacere. Aggiungiamo a questo che siamo una società che è sbarcata tra virgolette in Romagna perché soci sono diventati nel quinquennio precedente il comune di Riccione e il comune di Coriano che ci hanno fidato la gestione della riscossione coattiva. Non dimentichiamo che noi gestiamo complessivamente come gruppo 16 farmacie che sono dal punto di vista economico e di bilancio la voce più importante che la fa tra virgolette da padrone che ci permette, essendo un servizio al mercato, di poter così dare servizi anche a un minor costo ai comuni grazie appunto all'utilità che quel servizio genera dal punto di vista del bilancio.